Un appalto pilotato da 11 milioni di euro. Per questo, questa mattina, sono stati arrestati il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, Sabatino Trotta, e due rappresentanti di una cooperativa sociale. Al primario sono stati anche sequestrati beni per 50 mila euro. L'importante operazione è stata illustrata questa mattina in procura a Pescara. Avevano concordato il prezzo, 50 mila euro in contanti o altre utilità e regalie. In base al quale pilotare la gara d'appalto da 11 milioni di euro, che poi ha avuto il suo corso, come stabilito. Per questo, stamani, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di tre persone. Il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, Sabatino Trotta, e poi due figure apicali della cooperativa sociale La Rondine. Il legale rappresentante è una dipendente con funzioni di coordinatrice. L'ordinanza emessa dal GIP Nicola Colantonio, su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara, è un punto di svolta di un'indagine che ha preso il via la scorsa estate a seguito di denunce circa comportamenti atti a turbare la gara, volta ad assegnare l'affidamento di residenze psichiatriche e ospedaliere dal valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro, indetta con delibera dell'ASL del gennaio 2020 è aggiudicata in via definitiva lo scorso mese, afferente un comparto molto delicato, quello della cura delle persone più fragili, nel caso di specie affette da problematiche psichiatriche, da erogarsi presso numerose strutture residenziali e centri diurni ubicati nel territorio provinciale, alcuni dei quali già gestiti dalla cooperativa. L'attività investigativa dei finanziari ha ricostruito un quadro nel quale è emerso un accordo stretto tra i due rappresentanti del consorzio e il dirigente del dipartimento per indirizzare la gara d'appalto nella quale lo stesso dirigente sanitario ha svolto funzioni di pubblico ufficiale della gara predisponendone il capitolato tecnico e scegliendo i componenti della commissione giudicatrice tutte lui collegate personalmente e professionalmente per poi poterle condizionare al fine di garantire al consorzio l'attribuzione del massimo punteggio. Così sono scattati gli arresti ai tre indagati per i reati di corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti e il sequestro preventivo di beni per 50.000 euro nei confronti di Trotta. Il singolo appalto attenzionato, come accennava il dottor Samantini, è quello di 11 milioni di euro, che è una cifra molto rilevante. Se pensiamo che poi potevano arrivare a 17 milioni di euro nel caso di proroga dell'appalto, perché questi 11 milioni di euro dovevano essere spalmati in 4 anni ma c'era poi la possibilità di prorogare l'appalto per altri anni e quindi si sarebbe arrivato a 17 milioni di euro. E siamo intervenuti quindi sul singolo appalto, però abbiamo individuato nell'ambito di questo singolo appalto più atti corruttivi, più atti corruttivi che hanno poi, come dirà specificatamente il colonel Onano, hanno praticamente drogato questa procedura d'appalto. Tra i motivi che hanno spinto in particolare il dirigente del Dipartimento di Salute Mentale ad assumere questi comportamenti è anche il suo impegno in politica, fatto che è stato evidenziato tra i momenti nel corso del proprio intervento dal PM Mantini. Trotta si era già candidato come consigliere regionale nelle elezioni del 2019. Il proposito era quello di accrescere il proprio consenso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La cooperativa, immaginate, o meglio le varie cooperative aggregate a questo gruppo di interesse hanno rappresentato un interessantissimo bacino elettorale per le future competizioni. Parliamo di circa 700 dipendenti moltiplicate per le famiglie. Questo è stato, ed è accertato nelle intercettazioni, uno dei fattori sicuramente moventi dell'attività ma anche uno scambio corruttivo che il GIP ha molto valorizzato. Ancora cronaca, sono 57 i casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza scoperti nell'ultimo anno dalla Guardia di Finanza in provincia di Chieti in collaborazione con l'Inps per un totale di 460 mila euro. Le regolarità più frequenti sono relative a discordanze tra situazione economico-patrimoniale autodichiarata nella domanda e quella effettiva ma anche certificazioni se non veritiere, dipendenti in nero che dichiarano lo stato di disoccupazione, svolgimento di attività da parte di piccoli commercianti. Tra i casi svelati dai finanzieri in collaborazione con l'Inps è il possesso di immobili e automobili di lusso, fittizie separazioni dal coniuge o messe indicazioni di soggetti nel proprio stato di famiglia o false dichiarazioni di residenza per non indicare redditi o proprietà del nucleo familiare, lavoratori dipendenti regolarmente assunti o percezioni di redditi da lavoro dipendente oltre una certa soglia. Accertamenti mirati sono stati eseguiti nel settore gioche scommesse con riscontro di vincite conseguite sulle piattaforme online scoperti tre giocatori che avevano omesso di indicare vincite in un caso per la cifra di 88 mila euro attestando uno stato di indigenza del nucleo familiare non veritiero proprio per ottenere il beneficio. Tutte le posizioni irregolari sono state segnalate all'Inps di Chieti per l'immediato blocco del beneficio, la disattivazione della carta di pagamento e il recupero delle somme percepite. I beneficiari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver presentato dichiarazione contenente dati falsi o messi o incompleti e rischiano la reclusione da uno a tre anni. Cambiamo argomento adesso nel piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo italiano presenterà a Bruxelles, all'Abruzzo sarebbero destinati 2,2 miliardi di euro da utilizzare per la ricostruzione, la digitalizzazione, le infrastrutture e la transizione ecologica. I finanziamenti però non sono sufficienti a completare subito tutte le opere annunciate. Ricostruzione post-sisma, infrastrutture e investimenti in salsa green. L'Abruzzo intende spendere così i soldi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza che sbloccherà le risorse del Recovery Fund. Un malloppo da 2 miliardi e 200 milioni di euro, ancora da definire, che arrivano sia da Bruxelles sia dai fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione. Una volta arrivati i soldi, ha dichiarato il governatore Marsilio, le opere sono immediatamente cantierabili e volte a rilanciare l'Abruzzo da qui al 2027 nel rispetto delle indicazioni europee. Cominciamo dalle infrastrutture. L'Abruzzo paga un ritardo storico di infrastrutturazione, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporto. Quindi su questo tema concentreremo una parte importante della nostra attenzione. E poi c'è tutto il tema generale della transizione verde. Per certi versi è quasi obbligato, nel senso che gli obiettivi europei sono quelli e quindi una parte importante della spesa è vincolata a questo. Ma per noi è un'opportunità, perché l'Abruzzo è già regione verde d'Europa, è una regione da questo punto di vista che ha degli asset strategici fondamentali di cui altri fanno fatica a disporre e quindi per noi è una sfida esaltante di mostrarci all'altezza della transizione ecologica. Aspettiamo anche di capire, domani ci confrontiamo con il Presidente Draghi, se e quanto spazio ci sarà dato per poter finanziare questi progetti. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e sono progetti immediatamente cantierabili, comunque percorribili, che possono dare quella marcia in più che serve alla regione per poter crescere e per poter sviluppare economia. Le infrastrutture sono una priorità per il Governo regionale, che intende sviluppare porti, autostrade, ferrovie, anche per rilanciare il ruolo abruzzese negli scambi commerciali tra l'Europa orientale e quella occidentale. Una di queste opere dovrà essere la tanto pubblicizzata alta velocità Roma-Pescara, ma dei quasi 7 miliardi necessari al completamento dell'infrastruttura, nel Piano Nazionale non c'è alcuna traccia. Nella programmazione ci saranno i soldi per avviare l'opera, ha detto Marsilio, ma poi arriverà sicuramente il resto dei fondi promessi dal Ministero e da Rete Ferroviaria Italiana. Ho parlato ieri con il Ministro Giovannini, nel PNRR non ci sarà l'intero finanziamento che è di oltre 6 miliardi per fare tutto il progetto che abbiamo condiviso con RFI, con la Regione Lazio e con il Ministero, perché il PNRR ha delle scadenze, i fondi devono essere spesi entro una certa data e gli interventi sulla ferrovia sono interventi più lunghi di certe scadenze. Il Ministro ha garantito che inserirà nel recovery quella parte di opere che possono essere completate subito, quindi entro il termine del 2026 e il resto però ne ha garantito, questa è la richiesta che gli ho fatto, di garantire nel contratto di programma con RFI e comunque nei fondi ministeriali la copertura integrale, come già promesso dal suo predecessore e noi ci attendiamo che questo impegno venga onorato, perché la copertura integrale del progetto comprende anche i fondi per il potenziamento cargo, quindi non solo traffico passeggeri ma anche traffico merci che darebbe a questa ferrovia una marcia in più per poter sostenere lo sviluppo economico del territorio. E oggi sono tornati sui banchi di scuola tutti gli studenti fino alla terza media, il 50% di quelli delle superiori. D'Avezzano però didattica a distanza, noi siamo andati a vedere come è andato il primo giorno di scuola all'Istituto Delfico di Montesilvano. Giuseppe Dentino. Funziona, è pesante dal punto di vista organizzativo, è pesante, c'è uno stress continuo dei docenti e della dirigente, però devo dire che i genitori del nostro istituto collaborano. Questa mattina le scuole abruzzesi hanno fatto nuovamente squillare la campanella, da oggi tutti gli studenti fino alla terza media sono tornati a fare lezioni in presenza, mentre nelle scuole superiori metà degli studenti ad alternanza sono ancora in didattica a distanza. L'organizzazione è complessa, come spiega ai nostri microfoni la dirigente scolastica dell'Istituto Delfico di Montesilvano, ma che ha trovato la collaborazione di alunni, genitori e docenti. In molti, negli ultimi giorni, Comitato Tecnico Scientifico in primis, hanno esternato perplessità per il via libera alle elezioni in presenza deciso dal governo Draghi e il sindaco di Avezzano, di Pangrazio, alla luce della situazione epidemiologica, ha deciso il proseguimento della DAD anche per gli studenti di seconda e terza media. La preoccupazione, infatti, non riguarda solamente lo stare in classe, ma anche gli spostamenti verso le scuole, nel timore che ci si possa accalcare sugli autobus. La preoccupazione è per l'indotto, non è tanto all'interno della scuola. È ovvio, ad esempio, per le superiori, dove la stragrande maggioranza degli alunni molte volte è pendolare, quindi usa mezzi di trasporto, e lì i problemi ci possono essere. Noi qui abbiamo i piccoli, fra virgolette, e quindi vengono dal quartiere, e vengono a piedi alla scuola secondaria di primo grado, oppure li accompagnano i genitori, quindi qui non c'è problema di trasporto. Dentro le aule i banchi sono fissati con i segnaposto dei piedi, non fanno più ricreazione fuori, al bagno solo due, in tutto l'istituto. Insomma, abbiamo un protocollo pesante, che però fino ad ora ha fatto in modo che i casi positivi che ci sono stati, siano stati tutti isolati. Abbiamo un bel rapporto, una connessione continua col Dipartimento di Prevenzione. Quando siamo in presenza, appena c'è il primo caso, comincia una comunicazione fitta. Noi comunichiamo i casi e tutte le caratteristiche di ogni caso e il Dipartimento ci dice esattamente cosa dobbiamo fare. I ragazzi le sono sembrati contenti di tornare a scuola? Beh, quelli che ho visto erano sorridenti. Poi c'è sempre qualcuno che non verrebbe a scuola mai, diciamo. E nel giorno della riepertura della scuola, la CGL di Teramo lancia l'allarme sul calo preoccupante degli alunni. Per il prossimo anno scolastico in provincia di Teramo si prevedono 587 studenti in meno, 2073 in tutta la regione. Il sindacato chiede interventi urgenti a lungo termine su organici e sul problema della denatalità. Tania Bonnici-Castelli. Si torna finalmente a scuola, a casa, computer spenti e migliaia di studenti teramani di nuovo in aula con tanta voglia di stare insieme ai propri compagni ed anche ai propri professori. Ed ecco che arriva l'allarme della CGL Teramo. Per il prossimo anno scolastico in provincia di Teramo si calcola ci saranno 587 alunni in meno. Le motivazioni vanno rintracciate nel continuo aumento della denatalità, delle migrazioni dalle aree interne e di un esodo diffuso delle nuove generazioni. Vediamo in numeri la situazione. In questo anno scolastico 2020-2021 sono 39.000 gli studenti delle scuole pubbliche nel Teramano. Il prossimo anno scolastico saranno 38.413. Un calo che sta diventando molto preoccupante. In tutta la regione Abruzzo per l'anno scolastico 2021-2022 sono previsti 2.073 alunni in meno. In totale saranno circa 167.000 le studentesse e gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi. La provincia di Teramo paga un tributo salato a queste riduzioni, inferiore solo a quella di Chieti che perderà 990 alunni, 380 a Pescara e 116 l'Aquila. È facile immaginare che anche il prossimo anno scolastico non sarà regolare. Purtroppo la pandemia farà ancora sentire i suoi effetti. Per questa ragione il sindacato Teramano ricorda quanto sia importante consolidare e potenziare un organico docente e ATA che consenta di poter far scuola, rispettando i requisiti del distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Un organico stabile e non variabile in base al numero di alunni che si iscrivono. Per la CGL di Teramo si tratta di una vera e propria emergenza che dovrebbe determinare interventi di lungo periodo con proposte che affrontino i nodi strutturali di questi problemi. In giro però, secondo il sindacato, c'è aria di rassegnazione e un silenzio assordante. Rimaniamo a Teramo perché da domani a Teramo e San Nicolò due postazioni per la campagna vaccinale destinata ad alcune categorie di persone particolarmente fragili. Dettagli resi noti dal vice sindaco di Teramo, Giovanni Cavallari, che ascoltiamo nell'intervista di Ania Cantagalli. Da domani al via la campagna vaccinale anche per alcune categorie delle persone più fragili. Come si svolgerà l'attività di vaccinazione si svolgerà su due sedi, una a San Nicolò a Tordino e l'altra a Teramo. A San Nicolò nella sala parrocchiale sottostante la chiesa di Santa Maria degli Angeli e mentre a Teramo la faremo presso il palazzetto dello sport di Scapriano. Sono 5.500 l'elenco dei soggetti che dovranno essere vaccinati. Già da ieri i nostri dipendenti comunali stanno telefonando per concordare la data, il luogo e l'orario in cui bisogna presentarsi per fare i vaccini. Nella prossima settimana ci saranno ulteriori tre giornate, ma che però potremo comunicare successivamente la consegna dei nuovi vaccini che sarà fatta dalla Protezione Civile Nazionale alla AS di Teramo. Una volta verificata la consegna che sia conforme alla comunicazione che dovrebbe essere fatta, sicuramente saranno indicate le giornate che dovrebbero essere mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana. Ma su questo teniamoci con un minimo di incertezza perché dipende tutto dalla consegna dei vaccini. I rapporti tra Comune di Teramo e As di Teramo come vanno avanti per l'organizzazione della campagna? Noi abbiamo trovato queste due location, le abbiamo attrezzate e stiamo facendo praticamente le chiamate ai cittadini che dovranno sottoporsi all'attività vaccinale. Nella AS ovviamente i sanitari faranno poi le vaccinazioni vere e proprie, quindi tecnicamente c'è una scissione delle competenze, ma che ovviamente tutte confluiscono nell'interesse di vaccinare il più alto numero possibile di persone e di rendere meno complicata l'attività dei nostri concittadini. Per questo motivo voglio dire che abbiamo, grazie all'autorizzazione che ci è stata concessa dalla AS che ha messo sul nostro sito istituzionale la modulistica da compilare per potersi vaccinare, per cui chiunque dotato di un personal computer, di un collegamento all'internet può scaricare la modulistica e compilarla direttamente a casa. Così presentandosi presso la sede della vaccinazione con la modulistica già compilata i tempi saranno molto inferiori e sarà più agevole anche per i sanitari che devono fare l'attività proprio di vaccinazione. Risorse personale, raccordo con le istituzioni, questi alcuni dei temi sul tavolo domani pomeriggio nell'incontro tra il presidente regionale dell'Anci, Gian Guido D'Alberto, nonché sindaco di Teramo e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri per pianificare le prossime tappe della campagna vaccinale. Sindaco, domani ci sarà un incontro importante con l'assessore regionale Veri, convocato da Lanci per chiedere aiuto da parte dei comuni, sia per quanto riguarda le risorse economiche, sia per quanto riguarda il personale per affrontare al meglio la campagna vaccinale. Tanto che ci consente di confrontarci sull'attuazione del piano vaccinale, anche perché è necessario in questa fase che tutte le istituzioni si mettano insieme, si mettano a sistema perché la priorità è assolutamente quella dell'accelerazione della campagna stessa, alla quale dobbiamo dare credibilità e forza. Per dare credibilità e forza abbiamo capito in questa prima fase, tutti hanno capito, che è fondamentale il ruolo delle strutture comunali, come enti di prossimità i comuni svolgono un ruolo fondamentale, anche di cinghia di trasmissione con le comunità interessate. Lo sforzo che stiamo portando avanti tutti, come comuni, tutti è enorme, con il nostro personale, i nostri uffici e continueremo a farlo perché è la priorità assoluta. Però è assolutamente necessario, anche e soprattutto alla vigilia dell'avvio della cosiddetta vaccinazione di massa, che si chiarisca il ruolo, che si istituzionalizzi il ruolo e si definiscano anche le modalità con cui i comuni possono dare questo supporto, anche attraverso risorse umane, strumentali, finanziarie, che da un lato consentono di ottimizzare la campagna vaccinale e dall'altro di non pregiudicare tutte le attività che comunque i comuni devono continuare in questa fase storica così difficile a portare avanti nella garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. Questo è un aspetto fondamentale che ovviamente deve essere tenuto in piena considerazione sia dalla regione Abruzzo, ma anche e soprattutto dal governo nazionale, perché l'azione che Anci Abruzzo sta portando avanti attraverso Anci Nazionale diventerà ovviamente un tema di confronto anche con il governo. E domani sarà anche l'occasione per definire bene alcuni aspetti e chiarire alcuni aspetti del piano vaccinale. C'è un tema che è fondamentale in questa fase, non far perdere credibilità alla campagna e la credibilità della campagna si gioca sulla tenuta delle priorità. Bisogna dare priorità assoluta nella vaccinazione a chi ha più bisogno, a chi è più esposto, perché ogni operazione che va a far saltare questa scala di priorità mina la credibilità della campagna. Non ce lo possiamo permettere, non è giusto, dobbiamo partire da chi ha più bisogno. Ecco perché questa fase che si apre a Teramo questa settimana, che abbiamo fortemente voluto come negli altri comuni, sulle categorie fragili risponde a questo principio e si deve andare avanti in questa direzione. Adesso apriamo la pagina di sport e partiamo dalla Serie B. Doppia seduta oggi nel ritiro lombardo per il Pescara che prepara la partita di Brescia di sabato. I biancazzori hanno dato segnali importanti dopo la sosta. Le prove con Pisa e Monza hanno evidenziato un salto di qualità nelle prestazioni che autorizzano a sperare nella difficile rimonta salvezza. Andrea Costantini. A sei giornate dalla fine la sorte del Pescara non è ancora definitivamente segnata. Dopo la sosta per le nazionali è tornata in campo una squadra diversa, più consapevole delle sue possibilità e di conseguenza più coraggiosa. Non è chiaro se si è scattato qualcosa nel gruppo o se è il lavoro di Grassadogna che comincia a dare i suoi frutti nel corso del tempo. Probabilmente entrambi questi fattori hanno una incidenza, ma col Pisa si è visto un delfino che ha creato e segnato tanto, che ha giocato con continuità sapendo interpretare le varie fasi del match. Col Monza la squadra è scesa in campo senza alcun timore reverenziale verso una compagine costruita per la promozione in Serie A e che aveva l'obbligo dei tre punti. Anche in questo caso il Pescara ha avuto le sue occasioni, avrebbe potuto perdere ma anche portare a casa l'intera posta. Il grosso neo, come anche con il Pisa, la fragilità sulle palle inattive. Il gol del Toscano Marconi è stato ininfluente allo U Power Stadium, quello di Frattesi ha mandato sotto il delfino che poteva crollare sulla zampata di Armellino. Serve malizia e va trovata subito, così ha commentato nel dopogara il tecnico Grassadogna nel sottolineare le mancanze del Pescara sui calci d'angolo. Per ora non è bastato cambiare e difendere a uomo sulle palle inattive, c'è ancora da migliorare, ma per il resto lo stesso Grassadogna sa che la strada che sta percorrendo del Pescara è quella giusta. Se il pareggio contro una big del campionato non è pienamente appagante è solo perché la classifica resta brutta. I biancazzurri continuano a lavorare nel ritiro a Lombardo in vista del match di sabato col Brescia. Al Rigamonti il Pescara sfiderà una squadra in grandi condizioni risollevata dalla cura di Pep Clotet, l'allenatore catalano arrivato ai primi di febbraio per sostituire Davide Dionigi. In particolare nelle ultime 7 partite sono 16 punti conquistati che potevano essere 18 se la vittoria non fosse sfuggita al 96esimo con la Reggiana. Una marcia che ha portato le rondinelle alle porte della zona playoff. Sarà dunque un Brescia motivato a quello che cercherà i tre punti sabato, magari con la carica di alcuni ex come Ragusa, Martella e Biarnason. In certa la presenza di Donnarumma, il forte attaccante, ex virtuale della partita, ha avuto vari contrattempi e ha saltatolo e due gare post-sosta, anche se da ieri è in gruppo e potrebbe andare almeno in panchina. Sul fronte Pescara, Grassadogna dovrebbe proseguire con il 4-3, nel quale stanno ritrovando una dimensione apprezzabile due calciatori al loro modo deludenti, Christian Capone e Frederik Sorensen. L'esterno di proprietà dell'Atalanta, dopo una stagione a dir poco in sordina, ha finalmente riproposto guizzi di quel talento che in tanti gli riconoscono, ma che spesso resta nascosto da una eccessiva indolenza. Il difensore danese ha esibito due prove degne del suo trascorso da calciatore che ha calcato a campi di Serie A e Bundesliga. Non ci saranno Balzano e Memuschai, difficile la presenza di Drudi e Bocchetti, mentre ci sono speranze per Grassadogna di riavere disponibili Tabanelli e Rigoni, forze fresche per il centrocampo. Ma ciò che tiene più in ansia il tecnico Biancazzurro è la condizione di Galano, la distorsione riportata a Monza ne mette a forte rischio la presenza e allora si candida Vokic dal primo minuto dopo la discreta prova in Brianza. Fare risultato è importante tanto quanto il fatto che le dirette rivali non facciano punti con Lascoli che riceve il Monza, il Cosenza impegnato a Venezia e la Reggiana ancora in casa con la capolista Empoli. Poi sarà il momento di giocare il tutto per tutto, tre sconti diretti in sette giorni, Entella, Cosenza e Reggiana. Calendarizzate le prime due gare ufficialmente, Pescara Virtus Entella, sabato 17 aprile ore 14, Cosenza Pescara martedì 20 ore 19. Scendiamo in Serie C adesso, il direttore sportivo della Ternana, la bursese Luca Leone intervenuto durante la trasmissione pro Teramo di ieri ha parlato del successo delle fere rosso-verdi che hanno raggiunto il campionato di Serie B. Giudizio lusinghiero per il Teramo che secondo Leone ha fatto a meno troppo frettolosamente di un attaccante come Pietro Cianci e da ex direttore sportivo del Pescara Leone ha auspicato un rush finale positivo per il Delfino nella corsa. Alla salvezza. Sono arrivato che qua veramente la cosa, la sfida più importante era la ricostruzione di una squadra, di una società che dovevamo rimettere tutto a posto. Quindi questa era per me la… che quando ho incontrato Bandecchi nel nostro primo incontro ho chiesto a lui se aveva voglia di costruire, se aveva voglia di vincere subito io non ero capace. Con questo sono stato… lui sa benissimo che… io ho detto io la bacchetta magica non ce l'ho, quindi ho bisogno di tempo per poter costruire. Ci vogliono almeno tre, quattro sessioni di mercato per costruire una rosa secondo me idonea per quella che poi è la mia filosofia, il mio modo di pensare. Il Teramo è la squadra che mi è piaciuta di più, per qualità di gioco un po' perché ci assomigliava, quindi era la squadra che io poi quando dovevamo incontrare era quella che mi creava un po' di preoccupazione. Per quanto riguarda la costruzione della squadra io quello che ti posso dire è che il Teramo l'attaccante ce l'aveva, era Cianci, quindi bastava tenerlo e poteva risolvere tutti i problemi che magari poi penso non abbiate parlato durante l'anno per quelle che potevano essere le carenze della squadra, ma penso che l'attaccante ce l'aveva in casa ed era anche abbastanza bravo. Ho visto tutte le partite del Teramo, ma eravamo già venuti all'inizio dell'anno a fare l'amichevole, quindi si intravedeva già qualcosa, infatti ho fatto i complimenti al mister e a Sandro che è il mio carissimo amico, mio ex compagno di squadra, quindi sapevo anche perché nel Teramo ci sono anche dei giocatori di valore, penso a Mungo, Costa Ferrera, Ilari, insomma c'è giocatori, anche i giovani che sono stati bravissimi, penso a Santoro, lo stesso di Agite è stata una bella rivelazione, quindi c'era anche della qualità, forse secondo me, forse a livello di cambi magari non aveva, hanno dovuto sempre giocare gli stessi, se penso a Tentardini non ci sia riposato mai. Avete utilizzato sui vostri social lo slogan We are back, ecco, tornati in Serie B, io penso che Luca Leone un po' il pensiero ce lo faccia, ma ci troverà anche il Pescara? Ci sono sei partite da fare nel migliore dei modi, con una fiammella accesa, di arrivare almeno a fare lo spareggio salvezza, a fare il play-out, visto che dopo Brescia ci sono Reggiana, Intella e Cosenza, tre scontri diretti importanti che possono comunque sia dare la possibilità al Pescara di recuperare la quarta ultima o la quinta ultima, quindi bisogna credere a quello, lavorare per quello, mettere da parte in questo momento quelle che sono le chiacchiere o tutto ciò che può togliere a questa squadra in questo momento, tanto è inutile stare a parlare di quello che è successo durante l'anno, che non serve a niente in questo momento. Poi magari fra un mese si tirerà una linea, però ci sono quattro partite in questo momento determinanti che possono ribaltare la classifica, secondo me, e vedendo la squadra ieri vedo una squadra viva che secondo me potrebbe potrebbe almeno arrivare al play-out se riesce a vincere gli scontri diretti. In serie di tra poco in campo il Pineto al Tamburrini di Montegiorgio per il recupero della giornata numero 13 di campionato che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 23 gennaio e così non è stato, si recupera oggi, allora andiamo a vedere le formazioni, ovviamente con particolare risalto a quella biancazzurra di Marco Pomante da cui partiamo, in porta va Mercorelli, poi Paoli e Pepe, Galeano, Minnozzi e Della Quercia, Minincleri, Romano, Mastrippolito, Bertolo e Mesisca. In panchina accanto al tecnico il secondo portiere Mejri, Sabatini, Salvatori, Baldinini, Mbubà, Esposito, Bugaro, Restaneo e Cavaliere. Ovviamente allenatore Marco Pomante. Andiamo in casa a Montegiorgio, Gagliardini, Gnaldi e Montanaro, Omiccioli, Ficola e Perini, Pampano, Trillini, Albanesi, Cucu e Santoro. A disposizione Zizzania, Cichella, Tempestilli, Marziali, Zancocchia, Mejas, Misin, Mandolesi e Arturo Lupoli. L'allenatore è Eddi Mengo, direttore di gara Arno della sezione di Padova. E con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento al prossimo TG6 alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.